Una serata di gala con un menù stellato, 100 euro di contributo per partecipare ad un obiettivo importante, aiutare i dipendenti che sono sopravvissuti alla tragedia dell'hotel Rigopiano, in cui hanno perso la vita 29 persone, a rilanciare un'attività turistico-ricettiva a Farindola. L'evento, organizzato dall'Associazione Qualità Abruzzo, si terrà giovedì 27 aprile al ristorante L'Eurgar della Reserve di Caramanico Terme, in provincia di Pescara. Ai fornelli ci saranno tutti i migliori chef della regione Abruzzo, che per questa occasione uniscono le forze per dare una mano ai colleghi rimasti senza lavoro e vogliosi di cimentarsi in una nuova avventura imprenditoriale. L'intero ricavato della serata sarà consegnato nelle mani del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, Davide Pezzuto, chef del D1 di Montepagano. Questa iniziativa è stata fatta per aiutare questi ragazzi che vogliono ricominciare e vogliono avviare un'attività ristorativa alberghiera a Farindola. Quindi noi che siamo dei colleghi ci sentiamo in dovere e anche in piacere di fare questa cena che costerà 100 euro, però sarà tutto devoluto all'iniziativa di questi ragazzi che vogliono ricominciare a testa alta nella loro passione. Il menù sarà ricco di cose buonissime, io farò un antipasto, però non voglio dire altro perché voglio lasciare la curiosità, però sarà un ottimo menù, ci sarà presente Peppino Tinari, Marcello Spadoni, Nicola Fossaceca del Metro, Ferretti, Sandro Ferretti, insomma tante eccellenze abruzzesi tutte riunite per questo bellissimo evento. Ogni ristorante si sta facendo aiutare dal proprio fornitore in modo che veramente tutto, tutto, tutto l'incasso possiamo devolverlo in questo aiuto, diciamo. Quindi noi siamo tutti lì, dovete venire anche voi, dovete partecipare numerosi, vi aspettiamo. Grazie. 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 Grazie.